Allora, bene, Enrique registra, stiamo parlando del router, finiamo il discorso sul router e poi andiamo a provarlo a mettere dentro nell'applicazione purtroppo nell'intervallo siete venuti tutti a chiedere, non ho messo online, non ho fatto il commit del context ma quando arrivo in ufficio poi lo faccio Allora, dicevamo che il router ci serve perché noi abbiamo bisogno di dividere la visualizzazione della nostra applicazione in diverse viste lo facciamo avendo diversi URL, per gestire bene questi URL usiamo una libreria che ci mette a disposizione i componenti e stavamo vedendo il componente root, minore, maggiore, root, che ha due attributi, path ed element il path è la cosa più interessante perché è la stringa che viene letta per fare il match con l'url corrente quindi devo cercare quella che fa il match migliore e dicevamo che ci sono diverse possibilità, ovviamente ho la stringa direttamente oppure stringhe parametriche, asterisco vuol dire tutto, due punti, qualcosa, vuol dire che quello che c'è in quella parte di URL verrà messo a disposizione dell'applicazione nella forma che vediamo tra un istante come valore stringa gestibile nel codice per esempio mettiamo un ID, noi possiamo agganciare l'ID, usarlo per andare a fare un'interrogazione su database piuttosto che visualizzare altre informazioni e così via ok, la root più specifica è quella che viene sempre usata quindi noi possiamo mettere tranquillamente slash, ma slash verrà usato solo quando nessuna delle altre funziona quindi non c'è scritto contact task, non c'è scritto user, non c'è scritto docs ok, possiamo anche annidare le root io questo ve lo sconsiglio all'inizio, ma quando avete un'applicazione più complicata magari potete cominciare a provarlo all'inizio se abbiamo due o tre root, teniamola allo stesso livello oggi proviamo con una root add, una edit e ne abbiamo già da, come dire, abbastanza però nel momento in cui l'applicazione diventa più complicata può essere utile, quindi avere una specie di directory che sarebbe la root sotto la quale mettiamo altre root annidate quindi che so, user, user overview, user informazioni di dettaglio user modifica stato e così via questo per noi user, quindi abbiamo una root user poi sotto facciamo delle root annidate appunto, come vi dicevo, overview, modifica stato, eccetera ok, quindi possiamo annidare i componenti root dobbiamo sempre considerare appunto che questo corrisponde un po' a una complicazione quindi il gioco deve valere la candela ossia bisogna che ci sia un qualche vantaggio cioè a livello di organizzazione il nostro codice risulta più ordinato quando annidiamo le root abbiamo un componente ulteriore outlet che non è obbligatorio usare però, diciamo, se annidiamo le root abbiamo necessità di usarlo perché ci dice dove i children che fanno match quindi i figli, le root figlie che fanno match verranno renderizzate ok, perché se noi scriviamo element sulla root padre nella root figlio scriviamo qualcosa altro dobbiamo decidere come fare entrare la root figlio dentro la root padre ok, e se ve l'ho dimenticato purtroppo non si vede nulla e non c'è nessun errore perché assume semplicemente che non vogliate metterlo quindi root con dentro delle altre root quindi qui non chiudiamo la root ma la chiudiamo qui sotto quindi root aperta, root chiusa con dentro delle altre root e poi ciò che viene visualizzato è dentro outlet del componente che noi abbiamo messo nella root padre ok ma questo è più che altro per completezza all'inizio potete tranquillamente farne a meno quando vi rendete conto che non so avete 5 o 6 root volete organizzarne meglio volete avere un pezzo di root comune all'inizio eccetera potete cominciare a guardare questo meccanismo che però inizialmente come vi dicevo io lo lascerei un attimo da parte invece è interessante sapere che esiste una root apposta che si chiama index per renderizzare di default qualcosa nell'url del padre ok perché? perché ogni tanto magari abbiamo la root del padre che fa match e non ci sono root figli che fanno match ok quindi diciamo che è una specie di default di root di default ok di nuovo io lascerei queste cose un po' alla pratica quando ne avete bisogno venite a vedere come sono fatte se no non riusciamo più a far funzionare l'esempio un'ulteriore root che vi consiglio di usare diciamo per completare bene la vostra applicazione è la root che noi chiamiamo no match cioè se noi specifichiamo come path asterisco quindi non slash asterisco ma asterisco praticamente questa fa il match di tutto però è la root meno specifica di tutte perché prima si fa il match di tutte le altre più specifiche quindi ciò che hanno almeno un carattere quindi slash o slash qualcosa eccetera se proprio non c'è nulla si fa il match di questa root e questa root magari ci mettete un componente che semplicemente dice guarda questa root non esiste torna alla pagina principale un po' come capita quando accedete ai siti mettete un url a caso caricate una pagina che non esiste e vi dice ops non esiste vi viene fuori qualsiasi cosa il cagnolino che vi abbaia e vi dice c'è un link di solito di cortesia attorno alla pagina principale questo è il modo di realizzarlo con queste root ok ok quindi però questa è una root diciamo così standard ok no qui stiamo andando indietro ok quindi va bene index no match no match l'ho creato io è un componente che creo io questo no match quindi ci faccio un bel p grosso con scritto non esiste torna alla pagina principale insomma qualcosa di questo tipo ok navigazione questo è importante invece perché la navigazione la deve gestire il router quindi è la maniera di mettere i link ok e abbiamo un componente apposta link link con un attributo tuo uguale al cui possiamo passare una stringa a un oggetto tipicamente una stringa al caso più semplice la stringa con l'url nuovo slash slash about slash add e quello che volete ok se siete nel codice non quindi che so state scrivendo un event handler oppure state scrivendo qualsiasi codice diciamo nel vostro componente siete dentro una funzione e non state ritornando il jsx quindi non potete ritornare un componente jsx potete usare ciò che viene restituito da un hook apposta del router che si chiama use navigate che vi da un callback quindi una funzione a cui potete passare come parametro il nuovo url che volete caricare però non è che il browser ricarica tutto dite al router di caricare il nuovo url e il router lo farà ok quindi questa è un'azione iniziata dal vostro codice non è un'azione che viene scatenata da un evento dell'utente che fa click sul componente link ok quindi il link si attiva quando l'utente fa click come i link normali web il navigate lo attivate voi da codice chiamando navigate per esempio alla fine del form nell'event handler del submit volete probabilmente non so tornare alla lista dei film e fate navigate slash films slash quello che avete come percorso della pagina che vi visualizza la lista dei film quindi attenzione mai 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 quelle cose che mettiamo in rosso da fare massima attenzione mai 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 usare componente A perché perché crea un link normale che poi il browser ricarica se usa ricarica la pagina e quindi ci distrugge lo stato della nostra applicazione quindi poi di sotto il link sarà di fatto implementato con un A se andate a vedere il DOM magari viene fuori un A ok però è controllato dal router quindi ha gli eventi agganciati in maniera che evita di ricaricare la pagina e stessa cosa vale per il form form non mettere mai un action quindi un url da caricare e agganciare sempre l'evento un submit che si può anche scatenare semplicemente con l'invio in un campo del form mi raccomando per questo va sempre agganciato e lì facciamo prevent default cioè evita di caricare il nuovo url ok perché altrimenti distruggiamo la nostra applicazione queste cose saranno controllate in maniera abbastanza tappeto all'esame ma se non le seguite succederà che si ricarica l'applicazione e ce ne accorgiamo subito e quindi questo fa sicuramente perdere tanti punti perché ci stiamo discostando dal paradigma single page application non è la maniera in cui vogliamo programmare la nostra applicazione la nostra applicazione si carica la prima volta carica il codice e fa tutto eseguendo codice lato client che non vuol dire che non interagisce più col server vedremo le prossime settimane come interagire col server ma caricheremo i dati non carichiamo nuove visualizzazioni ok bene quindi come si usa il link beh è molto semplice link tu stringa e poi ci mettete il vostro link può essere un link normale quindi vi uscirà fuori sottolineato di default come i classici link web può essere un bottone può essere qualsiasi elemento che volete far diventare cliccabile e che vi porti a un nuovo url diciamo qualsiasi elemento nei limiti del ragionevole no? perché poi chiaramente diventa tutto cliccabile se invece ho bisogno del navigate quindi dell'usare look perché ho bisogno di chiamare il root e poi dirgli naviga in un altro posto un altro url da codice quindi non nel JSX questo siniestro è JSX questo a destra no perché sto scrivendo un event handler mi faccio dare una callback questa navigate che mi consente di chiamare e di caricare l'url che desidero il root sarà informato e me lo carica appena possibile ok? cioè sostanzialmente subito ok tutti i percorsi di default sono relativi a meno che non ci mettiate slash e quindi vedete questo qui about è relativo quindi a seconda del punto in cui mi trovo con il mio componente nella mia gerarchia dei componenti sarà un url relativo altrimenti mettiamo url assoluto nella nostra applicazione diciamo fa lo stesso vanno bene anche gli url assoluti tanto diciamo avremo poche root per ora ci può bastare ok ovviamente nel caso di prima se facciamo le sottoroute è chiaro che le sottoroute devono poi essere relative se no non sono sottoroute ok ma questo è un dettaglio ho la possibilità di avere dei componenti un po' più particolari come il nav link che sa se è attivo ma semplicemente diciamo questi sono dettagli che potete guardarvi per conto vostro semplicemente una cosa di visualizzazione come se nel vostro filtro volete usare un nav link anziché un link così si colora automaticamente nel momento in cui lo stato corrispondente è attivo però insomma potete farlo tranquillamente da codice per conto vostro ok root dinamiche ne abbiamo già parlato qui trovate riferimento sulle slide e quello che non abbiamo detto è come agganciare il valore del due punti qualcosa come lo agganciamo beh c'è un altro hook qui ci sono due hook da ricordarsi lo use navigate in realtà 3 lo use params e lo use params ci darà un oggetto che contiene coppie di proprietà e valore che corrispondono a ciò che c'è nell'url quindi ci sarà un oggetto che ha id due punti e il valore che c'è al posto di id qui nell'url se c'è post 5 ci viene fuori la stringa 5 ok ricordatevi sempre che sono stringhe perché sono url perché abbiamo un oggetto perché in realtà potrei mettere slash due punti user id due punti slash due punti qualcosa altro quindi potrei averne più di una e quindi ho un oggetto con le proprietà ognuna che corrisponde ad ogni elemento dell'url ad ogni parte dinamica dell'url ok quando lo creo quando lo creo ovviamente devo metterci un valore perché se non ce lo metto non c'è l'esempio poi lo mettiamo dopo quindi quando quando lo quando lo chiamo quindi se io faccio un navigate devo mettere slash invoice slash un numero un numero vero non posso scrivere due punti qualcosa perché non vuol dire nulla devo mettere il numero vero semplicemente quando lo specifico nel path della root questo viene visto come parte parametrica non vado a cercare se c'è qualcosa che si chiama due punti voice id ma vado a cercare qualsiasi cosa ci sia lì e me lo metto a disposizione con la use params in un oggetto in cui vado a recuperare l'informazione tramite il nome della proprietà ok ma è abbastanza intuitivo direi vedrete che vi prendete subito la mano una cosa interessata è che quando faccio i link posso non solo caricare un nuovo url ma anche passare uno stato alla nuova visualizzazione ok come lo faccio è qui una nota un po' dolente nel senso che lo dobbiamo fare passando tramite il browser object model del browser nel senso che questo url viene messo a disposizione in location stato scusate viene messo a disposizione in location state e questo vuol dire che di fatto nella pratica dobbiamo un po' fare attenzione a quello che passiamo nei nostri esempi ma anche nel vostro quando passerete il film se avete degli oggetti complessi tipicamente tutti gli oggetti che non sono stati creati da voi semplicemente prendono una graffa ma sono stati creati con un new hanno dei metodi eccetera questi vengono come dire non si possono passare perché il meccanismo di passaggio se realizza l'oggetto in una stringa non c'è modo di serializzare le funzioni eccetera però diciamo questo lo possiamo un attimo lasciare da parte e solo per quando avrete bisogno di passare anche uno stato però siccome abbiamo già la possibilità di avere url parametrici non è detto che ci serva necessariamente passare lo stato perché lo stato che vogliamo passare a una nuova visualizzazione potrebbe semplicemente essere la parte parametrica dell'url ovviamente in forma più compatta magari l'id del oggetto da editare del film da editare della risposta da editare come facciamo tra poco e così via ok questo giro invece è completamente interno all'applicazione non viene esposto nulla sull'url però ha una serie di limitazioni vi metto poi a disposizione anche la soluzione che usa questo tipo di passaggio oltre a quello che facciamo dopo più che altro per conoscenza non cambia nulla come lo farete anche in laboratorio e più che altro qui cerchiamo di prendere confidenza con le root le root possono anche essere più complicate nel senso che l'html prevede anche la possibilità di avere root con i cosiddetti parametri di ricerca che sono quelli che vengono dopo il punto interrogativo anche queste sono gestibili c'è un uc apposito use search parameters use search params che funziona come perché use state no era volevano scrivere use params vabbè qui mi ha scritto use state ma è use use params va bene noi diciamo a meno di casi rari non le useremo nel senso che ogni tanto può essere un po' più pulito passare certi parametri di visualizzazione come punto interrogativo qualcosa piuttosto che come proprio url quindi url che so lista film slash se voi scrivete order buy e poi cosa scrivete slash qualcosa altro si può anche fare perché gli url oramai li creiamo noi stanno solo dentro la nostra applicazione quindi ci può anche stare però diciamo le applicazioni tradizionali usavano questa sintassi del punto interrogativo perché era quella dei form e diciamo chi volesse usarla può farlo e può aiutarsi con questa search params che di fatto divide automaticamente le copie nome valore crea l'oggetto il nome è il nome della proprietà il valore è il valore della proprietà e così via ok inizialmente la possiamo lasciare un attimo perdere però se poi il filtro volete portarlo sotto forma di questa urla potrebbe essere una cosa interessante da fare non ricordo se lo metteremo nel laboratorio o no forse no chiediamo solo che sia un urla differente però è una cosa che potete valutare però di nuovo sono cose che sono più utili quando le applicazioni cominciano a diventare complesse quindi sommario di tutto quello che abbiamo detto e poi proviamo col codice per far funzionare il router dobbiamo 1 mettere tutto dentro browser router ovviamente installare il pacchetto questo non ci piove però mettere tutto dentro browser router creare le route quindi descriverle route path element quindi decidere cosa visualizzare per ogni route quindi implicitamente definire quali sono le route che ci interessa e poi aggiornare tutto in maniera che si navighi tra le route cioè quello che prima facevamo con gli stati di visualizzazione per esempio show form per mostrare il form con le edit con l'add non esiste più e diventa un url l'url ci dice in che stato siamo quello stato dall'applicazione sparisce e bisogna che i bottoni non vadano ad aggiornare uno stato ma carichino il nuovo url quindi se siamo nel form carichino che so slash per visualizzare la lista e se siamo nella lista e vogliamo fare add mi portino al form quindi il bottone non è che fa show form true ma mi porta al nuovo slash add slash edit a seconda di quello che ho schiacciato ok quindi questo è quello che dobbiamo fare e poi se ho bisogno dei parametri va bene ho questi hook apposta che mi agganciano nelle porzioni di urla non sono io che devo andare a prendere location una stringa dividermela eccetera tanto codice per nulla e ovviamente poi finisce che c'è sempre il bug ok quindi proviamo se non ci sono domande proviamo e vi ho messo online quindi in week09 react qua vi ho ho fatto un po' di ristrutturazione che non ho fatto in aula perché se no ci porta via tanto tempo per nulla nel senso per strutturare un po' i componenti metterli in file separati importarli eccetera sono tutte cose molto meccaniche che hanno poco di interesse dal punto di vista della didattica quindi andiamo più che altro a provarlo lo trovate è online sul sul solito nostro sito week09 anziché in context entrato in react qua e ci sono già tutti i file ok il solito progetto in cui ho fatto un po' di ristrutturazione quindi in questo progetto ho fatto in app diciamo ho fatto un question description che è la parte di header della tabella cioè prima della tabella e il main answer che è la tabella ok poi ho i miei components quindi ho cominciato a usare un po' di file esterni che prima avevo fondamentalmente un solo file con i component c'è l'answer component che ha la tabella quindi c'è c'è sempre lo show form quindi questa è la versione vecchia adesso la modifichiamo ma questa è la versione vecchia c'è lo show form che serve a visualizzare il form sotto la tabella l'oggetto da editare rispetto all'altra volta avevo aggiunto l'edit che vi ho messo online che sostanzialmente ci consente di fare l'edit oltre che sulla semplice aggiunta cioè ci ci mette il contenuto dei campi del form già riempito con quelli di un oggetto che esiste e quando vado ad aggiornare quindi a fare save anziché aggiungere mi modifica ciò che esiste e poi ho messo un sort order che ho un po' rubato diciamo dei colleghi dell'altro corso ma giusto per farvi vedere che questo è un puro stato di visualizzazione visto che poi lo show form ci sparisce perché oggi lo facciamo sparire volevo mantenere un altro stato di visualizzazione giusto per farvi capire che ci sono cose molto locali come per esempio il semplice ordinamento dei dati quando visualizziamo le informazioni che possono essere tranquillamente lasciate lì localmente all'interno del componente e altre cose invece come la lista delle risposte e delle domande e la domanda che invece come è stato tipicamente portiamo in app perché poi ne ha bisogno tutta l'applicazione ok va bene quindi ho fatto questa ristrutturazione la proviamo perché voglio partire da qualcosa che funzioni se no non riesco a fare nessuna demo ovviamente ho già fatto npm insta stamattina quando sono arrivato oppla dev quindi vediamo che funzioni ok funziona fin troppo grosso ok quindi questa è la stessa cosa dell'altra volta cosa ho fatto in realtà avevo anche aggiustato un po' i bottoncini così trovate come usare le icons di bootstrap perché sono tanto carine no il cestino la matita e tutto dovete importare un pacchetto apposto che io ho già installato quindi quando fate npm install ci sarà un nuovo pacchetto si chiama bootstrap icons lo vedete tranquillamente e questo è il bottoncino di visualizzazione di cambio dell'ordine ok e tutto il resto è uguale a prima e quindi edit noi vogliamo fare 5 facciamo 5 e così via niente di particolare un po' abbellito la prima riga della domanda ma niente di particolare ok è solo un po' riorganizzata l'ho fatta diventare un po' più carino ho guardato che ci fosse lo spazio tra i bottoni noi staccati un po' tutte queste cose da cui potete prendere ispirazione se avete necessità ok allora adesso in questa applicazione che vedete non ha url è sempre la stessa stesso url qualsiasi cosa facciamo edit non cambia nulla quindi 15 non cambia assolutamente nulla possiamo interagire come vogliamo non cambia assolutamente nulla nell'url bene prima di andare avanti devo pensare a quali sono gli url che hanno senso per la mia applicazione posso anche pensare che non voglio usare gli url l'applicazione funziona ed è a posto per me va bene anche così ok però è chiaro che non è un approccio tanto scalabile perché adesso abbiamo una lista e un form nel momento in cui abbiamo un altro form per fare un'altra cosa vogliamo vedere le informazioni di dettaglio delle risposte vogliamo avere le informazioni dell'utente clicchiamo sull'utente vogliamo avere la vista dell'utente vogliamo editar l'utente eccetera ci ritroviamo con una quantità di show questo show quello show form show detail show user detail edit user e così via un sacco di cose che servono solo per la visualizzazione ci complicano l'applicazione e non aggiungono niente al funzionamento aggiungono solo complicazione quindi allora non appena l'applicazione diventa un po' più complessa dobbiamo pensare a delle root che ci diciamo dividono l'applicazione in viste in visualizzazioni diverse la cosa più semplice da fare in questa applicazione è dividere la vista delle risposte dalla vista del form ok anche perché non abbiamo tutto questo tempo fare chissà cosa quindi sicuramente due root diverse la prima la lascerei sulla slash quindi la principale perché è quella che vogliamo vedere quando carichiamo l'applicazione la seconda la possiamo chiamare slash form non so se vogliamo tenere l'add e l'edit insieme oppure potremmo provare a fare due viste diverse slash add slash edit per fare l'aggiunta e l'edit ok perché vorrei poter dividere le due root ma perché l'edit è un po' particolare perché nell'edit ho un certo valore un certo risposta qui un film nel vostro caso da editare quindi magari la root edit la faccio slash edit slash id della risposta o del film da editare mentre l'add non ce lo mette quindi sono due root diverse questo non implica che devo fare due componenti diversi il form può essere lo stesso e noi ricicleremo lo stesso componente del form usato in due maniere diverse come avete fatto voi con l'edit del film quindi se inizializzate lo stato col valore vi viene già fuori salvo malfunzionamenti vi viene già fuori il form inizializzato se invece fate add adesso qui cos'è se faccio add vi viene fuori il form vuoto ok però è lo stesso componente del form che io adesso qui non ricordo più come ho chiamato come lo chiamato answer form sì l'ho chiamato answer form in cui se c'è l'oggetto object to edit settato vado a riempire i campi del form se no li lascio vuoti e quando finisco faccio edit oppure add a seconda che l'oggetto fosse stato settato o no ok quindi abbiamo fatto tutto questo ragionamento mi raccomando se non vi convince questo ragionamento fermatemi perché è importante perché io non parto a fare le root così a caso devo avere un'idea in testa di dove voglio andare a finire questo ragionamento per brevità ve l'ho già messo a disposizione nel file roots md quindi ho fatto questo ragionamento e ho pensato di gestire le root in questo modo quindi root c'è la lista delle risposte e poi una root root slash root add edit che potrei tenere insieme ma le separo perché ne voglio una senza parametro che è la add perché è vuota e l'altra provo così anche intanto il parametro identificativo della risposta per fare l'edit di quella risposta ok così proviamo anche la root parametrica qui ho messo due punti d potevo scrivere answer id potevo mettere quello che mi pare però diciamo facciamo appunto la prova e poi e poi devo avere in mente come mi muovo tra le varie visualizzazioni perché nella root slash se premo il bottone devo andare a finire su add perché c'è il bottone add se invece premo dei bottoni edit dovrò andare a finire su slash edit slash il valore dell'id che corrisponde al bottone che ho premuto ok quindi questo devo avercelo in mente quindi siamo nell'applicazione allora siamo così questa è la slash adesso non c'è ancora perché non ho la root però diciamo idealmente voglio arrivare che qui c'è slash quindi se premo su add vado su barra add se premo sugli edit vado su barra edit barra non so 1,2,3 a seconda dell'id di quella risposta ok questo devo avercelo chiaro perché se non ce l'ho chiaro non so che cosa scrivere poi se sono in add la faccenda è abbastanza semplice perché torno indietro su slash sia col cancel sia con l'add ok perché perché entrambi i casi in un caso aggiungo in un caso non faccio niente però la navigazione è sempre verso slash quindi la lista e se sono su edit di nuovo stessa cosa c'è il cancel e c'è l'edit che in più deve fare la modifica ok quindi devo avere in mente questa cosa se non ce l'avete in mente fate un disegnino prendete un pezzo di carta fate tre rettangoli io qui vedo questo vedo questo vedo questo mi muovo così con delle frecce che sono alla fine i nostri link ok che poi posso implementare sotto forma di bottoni va benissimo però devo avere in mente questa navigazione adesso la implemento allora come facciamo in app la prima cosa che dobbiamo fare è andare a importare il nostro router in realtà dobbiamo anche installarlo npm install react router dom ok quindi attendiamo e lo installiamo poi lo devo importare e lo importo dunque importiamo il allora qui dobbiamo importare il browser router browser router ok poi roots route from react dovrebbe essere router dom ok ok va bene perché forse bisogna metterlo dopo react si vabbè prima no vabbè ho fatto install giusto vabbè vediamo adesso comunque sono i tre elementi che mi servono browser route roots e root senza punto barra perché è una libreria a meno che non ho sbagliato qualcosa però vabbè allora a questo punto allora la mia applicazione diventa browser router punto e basta quindi qui non c'è tanto da discutere browser router browser router ok perché non me la vuole importare che è successo qui cosa mi ha combinato react router dom boh dovrebbe avere tutto quanto cosa abbiamo fatto che non va no secondo me va allora poi è strano ah ho sbagliato l'ho chiuso scusate ok niente sennò cominciano le stranezze poi poi cosa facciamo roots le descriviamo proprio questo roots s ok quindi root allora io a questo punto devo averla in testa perché se non ho le root in testa non le ho già decise come ho fatto prima qui non so più cosa scrivere ok quindi adesso scrivo path uguale slash e questa è la prima no element uguale e dovrà scriverci qualcosa e poi lo chiudo ok allora in questo momento facciamo una cosa per volta io vi faccio vedere come dovreste fare in laboratorio perché poi se cominciamo a scrivere tutto insieme io non sbaglio voi vi sbagliate quando testate avete 50 errori e non sapete più da che parte iniziare allora prendiamo quello che c'era prima e lo mettiamo in un component function come vabbè answer root diciamo main in questo momento faccio un attimo un main temporaneo è giusto per far funzionare tutto ok ci manca il fragment il nostro fragment che ci sta un po' sulle scatolucce no allora qui ci metto main anzi minore main slash ok che vuole questo infatti è andato a posto ok allora ho fatto una root slash e ci ho messo dentro quello che c'era prima questo dovrebbe già funzionare ovviamente serve a niente però però io voglio vedere che funzioni questa è la precedente ecco non funziona perché allora sempre la console question is not defined ok non funziona perché avrei dovuto portare tutte le app e c'è tutta la questione di tutto lo stato qui dentro va bene adesso diventa macchinoso facciamo app allora facciamo un attimo app no però per questo no ho dovuto fare app 2 va bene va bene diciamo a livello teorico questo è quello che dovrebbe succedere ho preso ho fatto la root e voglio questa roba qui dentro se no facciamo facciamo la answer root tanto prima o poi dobbiamo farla ok allora mi faccio un component mi faccio answer answer root gsx non funziona perché dovevo metterci lo stato e tutta la roba che passava come props ma io adesso lo faccio lo porto qui dentro in answer root quello che avevo in app quindi questa roba allora la chiamo answer root questo quindi salva answer root ci mettiamo questo ok e allora adesso mi devo far passare la roba allora la chiamo answer root che è un po' più indicativo di quello che facciamo dovrò fare l'export ma tanto adesso avete fatto la vostra lettura default answer root ok default quando ne devo esportare uno faccio prima e non metto l'oggetto così dall'altra parte non ho bisogno dell'oggetto e posso importare solo questo quindi in app quindi all'inizio ci importiamo answer root import answer ovviamente un po' di ristrutturazione che devo fare quindi c'erano mi sa questi tre che mi servivano dall'altra parte ecco qui siamo dentro components per cui il path è relativo devo cambiare i path quindi sto solo ristrutturando il codice sto prendendo i componenti che avevo prima in app li sto portando in un componente apposta perché poi in app in app voglio scrivere element answer root root e non voglio scrivere 50 componenti qui dentro posso anche farlo ma non finisco più non si capisce più niente nel codice quindi è meglio avere un unico componente che corrisponde alla radice della root la root cioè l'url e e far tutto dentro quel componente così c'è un po' più di spazio magari pure in un file separato dove ci mettete tutte le root non so secondo di come volete organizzarlo e ovviamente però questo ha bisogno che gli passo come si lamentava prima tutte le informazioni quindi c'è question question è lo stato poi c'era la answer list answer list non uso un context per ora anche perché in realtà queste servono non mi servono poi tutte dalle altre parti e poi ci sono tutte le varie funzioni increase score increase score c'era la add answer in realtà questo si la add answer poi forse mi serve non lo so se poi vi accorgete che c'è qualcosa che non vi serve semplicemente la eliminate dunque qui bisogna fare attenzione a queste graffe add answer edit no delete answer edit answer delete answer edit answer ok ok allora questa graffa cosa chiude dovrebbe chiudere niente questo chiude l'element ok dovremmo esserci allora container mi mancava bootstrap nel nuovo componente quindi scoppiazza l'importo bootstrap e lo metto qui in cima ok è solo riaggiustamento no di un po' di cose ancora una volta question ah si ecco e qui sono diventate tutte props ok quindi nel nuovo componente sono tutte props 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 ok quindi adesso dovremmo esserci oh finalmente finalmente ci siamo quindi cosa è successo ho messo un router ho messo una route ho messo slash ho messo dentro lo slash esattamente quello che c'era prima no quindi router però non serve a niente però adesso aggiungiamo la seconda route ok la seconda route quindi la seconda route è la route di add è che è la più semplice quindi quindi torniamo in app in fondo oppla in fondo route route path uguale slash add element element e qui cosa ci voglio io ci vorrei il ci vorrei il form no perché ho deciso a priori eh adesso vabbè qui non si vede però ok ho deciso io a priori che voglio una route con solo il form e una route con la lista ok poi quando siete più pratici lo abbellite fate il layout ci fate tutto il menu che resta in tutte le route con l'outlet eccetera ma qui non finiamo più se facciamo questo noi vogliamo imparare le route ok quindi devo prendere il form che in questo momento è attaccato in fondo alla tabella portarlo fuori farlo diventare un componente a parte e attaccarlo alla route add ok così abbiamo visto la prima vediamo anzi la prima route dunque questo l'ho chiamato form route quindi minore form route e poi deciderò cosa passargli ok ci penso dopo form route che però in questo momento non esiste e devo andarlo a creare da qualche parte e lo vado a fare in answer form che è il posto più comodo perché ho già il form quindi mi faccio function answer route props return e in answer route components scusate per non farvi perdere tempo se no andiamo a braccio ma poi se answer form se poi impianto da qualche parte mettiamo un po' a fare il debug e perdiamo tempo a fare il debug e non è una cosa utile allora fragment e ci metto il mio navader perché mi piaceva il mio navader l'ho fatto apposta è parte della ristrutturazione diciamo così navader chiuso container container fluid qui il container eccetera potete decidere di fare come vi pare è solo una questione di visualizzazione però già che l'ho fatto facciamo una cosa che sta bene answer form che è effettivamente quello che ci serve e devo passargli quello che si aspettava answer form che adesso non sto andare a cercare però vedete che si aspetta un po' di cose allora l'answer list sicuramente answer list answer props che mi farò passare answer list e poi add answer edit answer add answer che devo ancora passare dall'altra parte answer edit answer edit answer ok chiudo il tag answer form dovremmo esserci allora l'ans ah l'avevo chiamato form root vabbè cambiamo form root dai form in realtà è il form no questo l'add ok form root che però devo esportarmi no perché qui esporto answer form quindi le esportiamo tutti e due così vedete come si fa quindi via default ma lo sapete già avete fatto la lettura answer form form root se esporto più di una cosa devo farlo tramite un oggetto quindi aperta graffa form root in app devo andarmelo a importare quindi dove sta qui import ah vabbè l'avevo messo sotto nei nostri import se è bene metterli sempre in fondo import form root ok e già me lo trovo senza che scriva niente form root a questo punto devo solo andare a metterci le props che vedevo prima no quindi c'era una add answer in realtà basta la add answer si vabbè mi sa che allora prima ho scritto un po' troppi props perché in realtà io bisogno solo della callback non nel nuovo form quindi posso andare poi a ritirare le altre o meglio siccome lo riciclo per la edit lo lasciamo così allora non va uff che menata eh allora sempre abbiate sempre la console aperta oh qui c'è un default answer component quindi c'è un answer component ho messo default export main answer e quindi l'ho importato male quindi in app answer component no e dove l'ho messo chissà dove l'ho importato qui sono in answer root dovrebbe essere giusto no main answers answer components main answers chiuso vuole main answers che c'è che non gli va boh esportiamo anche l'alba magari non gli va bene no raw cos'è se è raw ma strano no no c'è qualcosa che non ma qui ho 14 answer component csx 14 allora answer component 14 ah no devo cliccarci sopra cosa migliore cliccarci search component answer form quindi questo è quello che mi dice search component answer form e qui sono in answer component ah questo non era un default vero infatti non era un default quindi se non metto le graffe un default se metto le graffe non è più il default e cercava l'export i default allora ok ci siamo schiodati non è sempre semplice ma per questo abbiamo i lab e così resta registrato come aggiustare tutti questi pasticci ok allora e adesso l'add dove sta e l'add in questo momento non è linkata nell'applicazione quindi se la vogliamo provare la carichiamo a mano quindi bar add lo scrivo nell'url lo sto scrivendo nell'url apposta per provarla bar add c'è un errore se non funzionava ce n'è sempre un add answer is not defined in answer form allora in answer form answer form form root add answer props props ok va bene questa è l'add barra add l'ho scritto a mano ed è comparso il form ok questa è un'altra root è avvenuto tutto lato client quindi il server ha fornito lo stesso identico pacchetto che fornisce sin quando abbiamo iniziato il corso con tutto quanto ok però però quando app ha fatto render il suo componente ha fatto render il browser root che dice ah ma io sono un router vado a vedere l'url vado a vedere quali root sono attive la root che è attiva è barra add io ho una root che fa match si barra add allora renderizzo form root e mi ha renderizzato solo form root e non quella di sopra che è answer root quella answer root mi visualizza la lista e la form root mi visualizza il form ok questo è quello che è successo non è che il server mi ha servito una cosa diversa come capita nelle applicazioni tradizionali server serve sempre la stessa cosa e il lato client decide di far vedere una cosa diversa sulla base dell'url bene adesso però io non voglio andare a editare l'url non lo editate mai in un'applicazione vera l'utente normale non lo edita mai al massimo voi che sviluppate ma l'utente normale parte del sito iniziale quindi io ho bisogno che premendo il bottone add answer vado a navigare su add come faccio? allora il bottone devo prima ricordarmi dove si trova se non me lo ricordo vado a cercarlo quindi inspector add answer sta in guardiamo nei components che facciamo prima perché non mi vengono free components sta in raw call button quindi sta qui in fondo alle risposte in main answer vero? devo andare a prenderlo era answer components c'è questo button che è qui in fondo ok è questo button qua che guardate consentitemi di fare una cosa un attimo sporca dopo la puliamo tra poco la puliamo quindi io metto button add quindi add diciamo questo è un link giusto per ricordarmelo perché adesso lo visualizzo come faccio? lo metto dentro un link 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 to slash add ok quindi link deve essere importato ovviamente quindi devo fare import raffa link from react router dom ok quindi io qui ho un nuovo bottone link dovrebbe esserci ok mi è smontato il mio bottone add link adesso poi faccio sparire l'altro però per distinguerli io adesso premo sul bottone add link sono sulla slash root faccio premo sul bottone e ho navigato su barra add dovete vedere che è cambiato l'url nel browser ok perché funziona? perché il link è un elemento del root di react che ci consente di fare questa cosa tutto ciò che è dentro è sensibile al click se no potevo fare un on click con use navigate fare navigate slash add ma lo facciamo da un'altra parte perché ci viene più comodo ok quindi ho messo a posto il link sul bottone di add adesso adesso avevo questo show form che mi faceva vedere o il form o il bottone questa roba qua sparisce questo è lo stato che sparisce perché questo stato è diventato uno stato di navigazione è diventato cosa c'è scritto nell'url se io ci scrivo barra add visualizzo il form se ci scrivo barra ci visualizzo la lista e non visualizzo più il form ok sono io che ho deciso di fare così se ci scrivo barra add ci visualizzerò il form con qualcos'altro ho già caricato eccetera ok quindi questa parte qui non serve più perché se visualizzare il form o no è deciso dall'url e l'url da chi è deciso? da come navigo nell'applicazione se ho cliccato su un link che mi portava quell'urlo vado su quell'urlo quindi questa roba qui va tutta via ok e va tutta via anche insieme al commento che poi se qualcuno ha bisogno lo spiego separato ma allora riproviamo quindi è sparito il bottone di prima è rimasto solo questo che è un bottone che non ha un non clic perché dentro un link che già fa la navigazione clic verso add rifacciamo la stessa cosa il cancel vedete che adesso non funziona più perché il cancel settava lo stato no? il cancel lo facciamo funzionare adesso non so più dove sia facciamo così che cerchiamo di velocizzare un po' al massimo il cancel è qui dentro e lo facciamo funzionare alla stessa maniera link to slash ok dobbiamo mettere chiuso link alla fine mettiamola a capo se no non si capisce niente e l'on click lo possiamo tranquillamente tirar via ok quindi salvo devo importare probabilmente link se non sapete aprite la console leggete import link from react router dom ok allora questo è l'add il cancel adesso mi riporta slash add mi porta ad cancel mi riporta slash ok non abbiamo fatto niente di speciale questo è html quasi di base abbiamo creato un link che porta ad e un link che da ad porta a slash ok sotto forma di bottone e cos'è che c'è di diverso che noi lo facciamo lato client con lo router di react ok rispetto a un'applicazione normale allora facciamo funzionare l'add perché l'add adesso io clicco e non succede nulla in realtà a voi sembra che non succeda nulla ma se noi andiamo a vedere in realtà ecco components se noi prendiamo app che è il posto dove c'è lo stato e gli add ci sono vedete adesso sono 13 faccio ancora un add sono diventati 14 gli add li sta facendo perché il codice era lì la roba l'ha portata dentro lo stato di add e di app no? perché era uno stato c'è tutto manca solo l'ultimo pezzettino io voglio che una volta premuto add non faccio set of form false perché adesso non c'è più questo meccanismo voglio navigare su slash voglio tornare alla lista ok? quindi andiamo dentro il bottone di add che è nel form sì quindi nell'ender del submit che è quello che corrisponde all'add e alla fine devo fare la navigazione verso slash navigate slash adesso non c'è devo prima importarlo però questo è quello che voglio fare qui non posso mettere link minore link questo non è jsx questo è un event handler devo chiamare una funzione questa funzione deve essermi fornita da qualcuno chi me la fornisce me la fornisce look del router lilla use navigate quindi io vado in cima e ci metto const navigate che è la cosa che scriverete sempre da per tutto use navigate aperta chiusa tonda non prende parametri ah l'avevo già importato va bene ok quindi mancava solo questa navigate per il resto va spero add adesso ricarichiamo quindi mi è sparito lo stato lo stato è tornato su quei 4 io adesso tanto posso anche metterci niente va bene schiaccio add aggiunge allo stato e mi porta su slash ok avete visto è andato su slash e mi ha aggiornato lo stato ok ma non posso farglielo caricare devo dire al router perchè io voglio andare su slash navigate slash ok ultima cosa faccio solo sparire dove è andato nella tabella lo stato no poi l'edit ve lo metto online da parte perchè non abbiamo il tempo però nella tabella noi abbiamo ecco tolto la parte del gsx ma possiamo anche togliere lo stato adesso ci sarà un set show form da qualche parte da eliminare set show form ok dove questo è l'edit è diciamo più macchinoso da far funzionare però devo togliere tutti i set show show form non ce n'è più vediamo un po' se funziona ancora add add e me l'ha aggiunto vabbè aveva i campi vuoti quindi sono a posto non c'è più lo stato show form perchè è incorporato nell'url allora come compito a casa ma in realtà ve lo metto online se non ci riesco prima di pranzo dopo pranzo l'edit no come si fa l'edit in app metto una terza root scriviamo solo la root anzi no vabbè si faccio annulla poi part uguale barra edit barra due punti id perchè io devo dire che cosa voglio editare la cosa più semplice è dirgli l'id della risposta da editare e poi dovrò modificare il componente con use params andare a recuperare l'id andarmi a recuperare le informazioni della risposta da editare e metterle nel campi del form ok e per il resto funziona uguale no quindi element sarà uguale quindi sarà un form root form root root sta tastiera non è la mia e faccio sempre una fatica bestiale e quindi qui dovrò passare poi edit answer e dovrò passare la lista delle risposte perchè dall'id dovrà recuperarsi le informazioni sulla risposta da mettere nei campi del form ok e poi faccio funzionare il bottone di edit con link a slash e ho finito ok vi metto online questa soluzione se avete dei dubbi o delle domande mi rispondo volentieri se no laboratorio giovedì e ci vediamo martedì prossimo in aula va bene grazie allora stop hop ciao ciao ciao